Buon parigio, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. L'apertura la dedichiamo ai problemi legati alla zona industriale e soprattutto al depuratore biologico consortile di Priolo. Ieri c'è stata la riunione del tavolo tecnico convocato dalla Presidente della Regione Schifani per affrontare la situazione. Una soluzione dovrebbe arrivare proprio dalla Regione che, come sapete, è l'azionista di maggioranza dell'IAS, è la società che gestisce il depuratore. Sentiamo meglio nel servizio. Il Governo regionale interverrà per risolvere la questione del depuratore biologico consortile di Priolo. I termini della vicenda sono stati oggetto di approfondimento nella riunione convocata dal Presidente della Regione Renato Schifani per fare il punto della situazione dopo che la magistratura si recusana ha disposto il sequestro dell'impianto e dopo una serie di servizi giornalistici, non ultimo, la trasmissione report di lunedì. Il Governatore ha convocato per ieri pomeriggio a Palazzo d'Orlean un tavolo tecnico per confrontare e affrontare la situazione relativa al coinvolgimento di tutti i dipartimenti regionali competenti per risolvere la questione. Tenuto conto dei gravi danni ambientali e delle ripercursioni a livello produttivo per l'intero comprensorio, aveva detto Schifani, nel convocare il tavolo tecnico affronterò immediatamente il problema valutando le conseguenti azioni da porre in essere con la massima urgenza. Prima del tavolo tecnico un legale dell'IAS è stato audito dai dirigenti all'assessorato regionale e alle attività produttive a cui ha illustrato il quadro della situazione. La indiscrezione è emersa che il Governo regionale abbia intenzione di intervenire in maniera sostanziale per porre rimedio al problema. Come è noto, la Regione siciliana possiede il 75% e le quotazioni dell'IAS, la società che gestisce il depuratore consortile priolese. In termini spiccioli dovrebbe significare che, preoccupati per le ripercussioni negative che ricadrebbero dallo stop al funzionamento del depuratore biologico, l'ente pubblico darebbe il proprio contributo e insieme con i soci privati interverrebbero per migliorare le condizioni dell'intero impianto. Un modo concreto per rispondere ai quesiti principali fosse la Procura Retusea con l'incidente probatorio che scatta a partire da martedì con il previsto conferimento dell'incarico al Collegio di Consulenti che dovrà accertare allo stato di salute del depuratore biologico consortile. C'è quindi l'intenzione da parte della politica di risolvere una volta per tutte il caso IAS che in questi ultimi anni ha fatto capolino anche nelle scrivanie dei magistrati. Questa era la vicenda IAS, ma parliamo di un'altra vicenda che riguarda tutti quanti noi, il caro Energia. Ci sono 250 milioni di euro che la regione siciliana ha stanziato per le imprese siciliane, dei quali 70 milioni destinati agli agricoltori, pronti anche a erogare il bonus Energia. Facciamo il puntare di azione in questo servizio. Aiuteremo le imprese siciliane ad affrontare i vertiginosi rincari dei costi dell'energia causati dalla crisi internazionale, aumenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende. Ci siamo attivati per erogare al più presto il bonus Energia grazie ai 250 milioni di euro che il governo Schifani ha affidato al Dipartimento delle Attività Produttive per aiutare gli imprenditori della nostra isola a fronteggiare il caro Bollette. Siamo a lavoro sugli avvisi da rendere pubblici nei prossimi giorni e dare così respiro alle realtà aziendali nei vari comparti produttivi e alle tante famiglie che vi ruotano attorno. Lo afferma l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio dopo l'approvazione in giunta regionale del provvedimento che destina complessivamente 365,7 milioni di euro alle imprese siciliane per abbattere l'aumento dei costi energetici. Subito 70 milioni alle agricoltori tra i più colpiti dal rialzo dei costi dell'energia. Nei prossimi giorni partirà l'avviso pubblico perché vogliamo erogarli a più presto. Lo afferma l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino commentando il provvedimento provato dalla giunta regionale. All'interno di questo stanziamento appunto 70 milioni vanno al comparto agricolo. Manteniamo l'impegno che il governo Schifani aveva assunto nelle scorse settimane, avere cura del tessuto produttivo della Sicilia già penalizzato dall'insularità e dalle carenze di sistema nel quadro di una crisi che ha pochi precedenti. Grazie alla riprogrammazione che abbiamo messo a punto recuperiamo risorse fresche per azionare la leva del sostegno della regione all'economia isolana. Così l'assessore all'economia Marco Falcone che aggiunge liberiamo risorse dai bilanci delle imprese e seguiamo l'esempio di importanti realtà bancari internazionali con l'obiettivo di ridurre l'impatto della spirale inflattiva innescata dall'aumento del costo dell'energia e della guerra in Ucraina. Con il caro energia e l'applicazione del federalismo fiscale i comuni rischiano il tracollo. Questo è anche il messaggio, il grido allarme lanciato da Lanci Sicilia, l'associazione nazionale dei comuni italiani che ha chiesto un intervento da parte del governo nazionale ma anche di quello regionale. Sentiamo in che termine. Siamo dentro una tempesta perfetta che travolge gli enti pubblici locali. Parafrasando il titolo di un famoso film Paola Menta, vicepresidente di Lanci Sicilia e sindaco di Canicattini Bagni, dà voce ai suoi colleghi in fascia tricolora per fare comprendere quale sia lo stato di disagio dei comuni che si vedono a recapitare maxi bollette per i consumi energetici. Peraltro i comuni sono costretti ad applicare il codice non considerando la speregurazione in atto con un costo di 0,20 centesimo al kilowatt in Sicilia mentre in Lombardia il calcolo si fa su 0,01 centesimi, un costo triplicato quindi che incide sul equilibrio di bilancio dei comuni finendo per intaccare i piani finanziari della raccolta dei rifiuti del servizio idrico integrato. La disamina di Amenta si spinge verso il federalismo fiscale che impone che ogni ente pubblico debba trarre sostentamento dalle tariffe idriche e quella dei rifiuti. Questo rappresenta l'aggravamento del problema perché già dobbiamo fare i conti con l'incremento dei costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica appesantendo le spese e la fornitura dei servizi essenziali per i cittadini sui quali se l'andazzo dovesse confermarsi si ripercuoteranno le maggiori conseguenze in termini di incremento di tasse locali e imposte. L'autonomia fiscale insomma viene vista dai sindaci come un'ammazza comuni. Ci chiediamo per esempio come faccia una microimpresa già destinatari dei sose bollette energetiche a disporre della liquidità necessaria a pagare anche i tributi locali. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha chiesto in confronto con il Governo regionale e con quello nazionale per focalizzare la questione e trovare una soluzione. La regione siciliana, spiega il vicepresidente di Anci Sicilia, ha stanziato la somma di 20 milioni di euro destinati ai comuni siciliani contro il caro energia. Questo contributo al nostro giudizio è irrisorio perché facendo un calcolo grossolano per ogni comune sarà destinata la misera somma di 10 mila euro a fronte di bollette energetiche che raggiungono anche 500 mila euro l'anno. Questa è una vera follia, una devastazione che non può essere risolta con un contributo, una tantum. Cambiamo argomento. Oggi è la giornata internazionale sulla disabilità. A Siriusa c'è stato un convegno, si è tenuto un convegno in cui si è parlato anche e soprattutto della qualità della vita. Abbiamo sentito anche i responsabili regionali del problemato, il garante dei diritti ai disabili. Insomma, vediamo un po' il servizio. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, Siriusa ha ospitato il convegno La Qualità della Vita, dal progetto individuale per la persona con disabilità, alle strategie di intervento. Una giornata con due sessioni di lavoro, una tavola rotonda con numerosi partecipanti al convegno. C'è una forte disponibilità all'ascolto e a capire quali sono le problematiche e a risolverle. Certo, i problemi sono tantissimi e ancora ci sono molte azioni da fare, però c'è la posizione di ascolto che è importante e che può essere determinante nell'attuare appunto delle condizioni migliorative. La lacuna maggiore da colmare, secondo lei, con fretta, con certe rapide? Purtroppo non c'è una lacuna, ce ne sono tante. Tante che riguardano un'assistenza ben organizzata, le famose barriere architettoniche e anche culturali che vedono la disabilità appunto come una malattia, come un qualcosa di insida nella persona, ma in realtà è un qualcosa che è appunto lavorando insieme, costruendo reti, si può sicuramente ridurre. Diciamo che le esigenze sia in ambito locale ma in ambito regionale, infatti la giornata di oggi, diciamo a una valenza regionale, sono molto simili. Quest'oggi noi parliamo di articolo 14, qualità della vita. La qualità della vita della persona con disabilità sicuramente si può realizzare attraverso l'articolo 14. Cos'è l'articolo 14? È il progetto di vita della persona con disabilità, cioè sapere di cosa ha bisogno la persona con disabilità dal mattino fino alla sera. Parliamo di sindacato. Roberto Getulio è stato confermato segretario provinciale dei metalmeccanici che aderiscono al CISAL, il secondo congresso si è concluso ieri a Siracusa, con la novità che i metalmeccanici adesso vengono inglobati in un più ampio progetto di settore che riguarda l'industria. Sentiamo. Al termine del secondo congresso provinciale, Roberto Getulio è stato confermato la guida del sindacato dei metalmeccanici aderenti alla CISAL. Il suo ruolo è stato però allargato, comprendendo altri settori del comparto industria. Stamattina abbiamo appreso che la melone, a differenza di altri, è stata di parola. Ha nazionalizzato, mettendo una persona. Io penso che per un anno ma continuerà e dà sicurezza e certezza ai 10.000 lavoratori del sito di Priolo. Io la settimana entrando sono a Messina perché non è solo qua. Siamo ai candieri navali di Palermo, stiamo andando, c'è la nuova società, l'ex Fiat di Termini Merese, l'altra settimana sarà lunedì o martedì, deve essere confermato. Abbiamo una riunione con l'assessore regionale per l'industria. Noi stiamo facendo la nostra parte, ma non siamo contro le altre sigle sindacali, anzi vogliamo essere assieme. Al centro del dibattito congressuale le vicende legate alla Lucoil e più in generale quelle della zona industriale siracusana. Sicuramente è stato un evento importante che ha focalizzato tutta la nostra attenzione e sicuramente tiriamo un sospiro di sollievo, almeno momentaneamente per quello che è stato l'intervento del governo a tal proposito. Chiaramente l'emergenza non finisce, continua, quindi bisogna che facciamo ancora attenzione e stiamo ben attenti a quello che succede nel polo industriale. Torniamo a parlare adesso delle vicende legate al rimborso dei tributi del sisma del 1990. È stato presentato dal senatore Nicita, ma ne ha collaborato in questo caso anche Tiziano Spade, che è il deputato regionale del PD, un emendamento per il rimborso di tutte le istanze, non soltanto per metà, come è stato fatto fino a questo momento. Sisma Sicilia 90 ha presentato un emendamento in Commissione Bilancio del Senato per procedere dal rimborso di tutte le istanze depositate e validate. Antonio Nicita, senatore e Tiziano Spada, che è anche deputato regionale del PD, si sono fatti carico e portavoce degli appelli del territorio affinché vengano soddisfatte le richieste di rimborso e non soltanto quella metà che le somme disponibili potrebbero assicurare. I numeri parlano chiaro, l'ammontare delle domande presentate e validate di 320 milioni di euro. Ciò vuol dire che le somme finora stanziate, pari a 160 milioni di euro, potrebbero essere sufficienti alla copertura del 50% della somma dovuta. Ma la Cassazione ha sancito l'obbligo di adempiere integralmente al rimborso degli importi derivanti all'ottemperanza delle sentenze tributarie. Questo ha reso le somme precedentemente stanziate insufficienti. Per un integrale soddisfacimento delle istanze validate occorrerebbero infatti ulteriori 160 milioni di euro e proprio questa è la cifra prevista all'emendamento. Una cifra, concludono i due parlamentari, che contribuirebbe ad alleviare le difficoltà di tanti cittadini che da decenni ormai si ritrovano a fare i conti con le conseguenze del sisma prima e della burocrazia poi. Vediamo qui la prima parte del telegiornale. Aspettate, insomma, ci saranno pochi suggerimenti commerciali. Ritorniamo in studio con la cronaca. C'è anche lo sport, il calcio, quindi tra pochissimo. Alla festa voglio il maco pistacchio, la macchina di popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorni. Allora io voglio uno squat. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Eh, altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR 4.0 full optional di serie e tua 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Nova Auto, concessionaria Evo e DR. Via Elorina 130, Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddicono che distinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di dieci anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Trattarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center. La trovi a Siracusa. Rieccoci in studio per la seconda parte del telegiornale. Parliamo di cronaca, dicevamo, l'inchiesta della Procura di Siracusa sulle gare d'appalto all'autorità portuale, che sarebbero irregolari secondo i magistrati, sfocia in un processo. Dovranno comparire davanti al tribunale penale, 14 imputati. Processo prima udienza fissata per novembre del prossimo anno. Saranno processati 13 tra funzionari e imprenditori coinvolti nell'operazione Port Utility su una serie di presunti episodi di corruzione avvenuti quattro anni fa nell'ambito di gare d'appalto per l'autorità portuale di Augusta. Il gruppo del Tribunale di Siracusa Tiziana Carruba ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati ai quali si aggiungerà un altro professionista per il quale era stato chiesto il giudizio immediato. Ha patteggiato invece la pena di due anni in reclusione a Roberto Adorno, la cui posizione è stata stralciata. Nell'inchiesta, che risale a un periodo compreso tra il 2011 e il 2015, sono state coinvolte 16 persone, tra funzionari dell'autorità portuale e imprenditori, per una vicenda che è culminata nel mese di novembre del 2018. Le accusa a vero titolo riguardano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e di turbata e libertà degli incanti. Secondo la Procura ci sarebbero state 11 gare irregolari con fondi europei per un valore di 100 milioni di euro. Un sistema che avrebbe seguito uno schema codificato, tutti gli atti relativi alla gara sarebbero stati preconfezionati in uno studio tecnico che quindi aveva stabilito quali fossero i requisiti per la partecipazione, come i parametri della giudicazione e i punteggi. Il processo si celebra davanti al Tribunale Penale di Siracusa in composizione collegiale. La prima udienza è stata fissata per il 16 novembre del prossimo anno. Fra dieci giorni sarà Santa Lucia, il 13 dicembre infatti Siracusa si ferma per festeggiare la padrona e come sapete insomma c'è già grandi preparativi. Si ritorna dopo due anni alla processione che è stata bloccata a causa come sappiamo del virus, diffusione del virus e allora ci si prepara con diverse iniziative. Una di queste è andata in scena questa mattina al comando provinciale dei Carabinieri dove sono state esposte le reliquie di Santa Lucia portate proprio in un momento spirituale, portate dal parroco della Chiesa del Sacro Cuore. Don Salvatore Musso, parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Siracusa, ha portato il reliquiario della Santa Lucia, padrona della città retusea, al comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa. Le reliquie sono state accolte dal comandante provinciale Gabriele Barecchia, dal cappellano militare dell'arma dei Carabinieri per la Sicilia orientale Don Rosario Scibilia e da una nutrita rappresentanza di ufficiali, marescialli e carabinieri della sede, anche carabinieri in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri. In una sala del provinciale ha avuto luogo un momento di preghiera nel corso del quale Don Musso, Don Scibilia e il colonnello Barecchia hanno ricordato la vita e il sacrificio della Santa, evidenziandone la dedizione dimostrata al Signore. La fedeltà e l'amore di Santa Lucia verso il prossimo sono state paragonate all'impegno e alla fedeltà che ogni carabiniere, con il giuramento prestato, dimostra nel quotidiano servizio, operando sempre in favore di cittadini e istituzioni pubbliche. Un momento di grande spiritualità, quindi, quello che ha coinvolto i partecipanti, in particolare all'arrivo e alla partenza delle reliquie di Santa Lucia, quando sono stati tributati gli onori militari. Parliamo adesso di dispersione scolastica. Anche il Comune di Lentini ha sottoscritto il protocollo d'inteso con la Prefettura per l'avvio dell'osservatorio. Ce ne parla il nostro anello La Fata. Sentiamo. Decolla anche a Lentini il progetto per combattere il fenomeno dell'abbandono scolastico, che vede anche Lentini parte importante. Infatti, dopo Pachino e Siracusa, anche Lentini è stata chiamata ad essere oggetto attivo dell'osservatorio nazionale sulla dispersione scolastica. L'osservatorio permetterà di ottimizzare la rete di protezione istituzionale e sociale a difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi della comunità lentinese. Darà sopporto conoscitivo al fine di mettere in campo modalità operative e progettuali condivise per il recupero culturale di alcuni quartieri afflitti da povertà educativa, promuovendo anche interventi di inclusione sociale, scolastica e lavorativa. Riteniamo l'osservatorio e il protocollo contro la dispersione scolastica, afferma il sindaco di Lentini Rosario Lofaro, un'opportunità importantissima per la nostra comunità. Rimaniamo a Lentini perché quest'oggi si è parlato di femminicidio all'Istituto Superiore Vittorini-Gorgia, un argomento ovviamente che se ne è trattato la scorsa settimana, però è sempre attuale, è sempre il 25 di novembre, ma è sempre attuale e quindi i ragazzi ne hanno parlato e il nostro Nello Lafata era lì sul posto per raccogliere la loro impressione e soprattutto parlare di questo argomento. Importante conferenza all'Istituto Superiore Vittorini-Gorgia con attività di prevenzione e formazione contro la violenza sulle donne. La scuola infatti si adopera con momenti formativi per promuovere riflessioni e approfondimenti tesi a rimuovere ogni forma di violenza e di accettazione rassegnata dai comportamenti violenti. Riflettere, conoscere, educare per formare cittadini attivi e attenti capaci di costruire un tessuto sociale sano. Sovente, ha raccontato la dottoressa Prumeri, responsabile del pronto soccorso di Caltagirone e di Militello Val di Catania, le vittime arrivano al pronto soccorso degli ospedali con evidenti segni di violenza, ma anziché chiedere aiuto tendono a mascherare la situazione. Le motivazioni di questa resistenza a denunciare appare incomprensibile, ha sottolineato Prumeri, e può trovare spiegazione nella negazione della realtà, nel tentativo di proteggere il partner nella paura di ritorsioni. Proprio in questi casi può essere decisivo l'intervento dei sanitari, sostiene la dottoressa annuncia Prumeri, che con fermezza e convinzione offre consigli e suggerimenti non solo alle studentesse e alle donne, ma anche ai ragazzi e agli uomini. La conferenza si è conclusa con il duo composto da Francesco Giudice e Ivan Iannello, che ha fatto da sottofondo al video finale dedicato a tutte le vittime di femminicidio del mondo e alle donne sopravvissute alla violenza di genere. Il Presidente della Quarta Commissione Consigliare dell'ARS, Giuseppe Carta, si è recato in ricognizione questa oggi al Pachino per vedere poi i danni causati dall'alluvione, danni che toccano soprattutto la zona sud della provincia. La ricognizione ha riguardato in particolar modo alcune zone, insieme con il Sindaco di Pachino, Carmela Pedralito, Carta ha registrato numerose problematiche in seguito alle piogge torrenziali dei giorni scorsi. Sono stati segnalati allagamenti nella zona di San Giorgio, nel Porto Fossa, quindi a Marzamemi, nel Canale delle Acque Bianche, zona nord-est, nelle aree IACP, Istituto Autonomo per le Case Popolari, con conseguente intasamento della Fogna. Martedì, dice il parlamentare regionale melillese, la Quarta Commissione territorio e ambiente avrà udienza con l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò. Chiederemo, dice, di agire con celerità nell'ampiamento del canale di raccolta acqua e bianche, di finanziare le nuove condotte idriche per evitare nuovi allagamenti, anche nelle zone di San Giorgio in contrada lettiera. Inoltre, dice ancora il componente della Quarta Commissione, sarà chiesto di rafforzare le azioni di pronto intervento con misure sistematiche di prevenzione per scongiurare possibili danni futuri. Adesso la sigla dello sport, c'è il calcio. Per quanto riguarda il calcio, ci sarà un'altra giornata di eccellenza importante per Siracusa Calcio e Real Siracusa e le altre del Siracusano. È la tredicesima giornata del campionato. Le due squadre, sia il Siracusa che il Real Siracusa, sono rafforzate in quest'ultima settimana, quest'ultimi giorni. Gli azzurri in particolare sono impegnati in casa con la Rocca-Acqua-Dolcese, squadra che sta dimostrando il proprio valore, naviga nelle zone alte della classifica, ma il Siracusa non può più distrarsi, non può più perdere punti rispetto alla capolista nuova Egea Virtus che prosegue a volare. Sarà Rocca-Acqua-Dolcese-Siracusa il big match della tredicesima giornata del campionato di eccellenza. In programma domani dirgerà l'incontro Nicola Melodia della sezione di Trapani, codiuvato dagli assistenti Elvira Rizzo e Francesco Di Venti, entrambi della sezione di Enna. Intanto il difensore Davide Pettinato e il centrocampista Santo Privitera sono i primi due colpi di mercato invernale del Siracusa. Provengono entrambi dal Canica T, squadra che milita in Serie D e con la quale la scorsa stagione hanno conquistato la promozione nella massima categoria dilettantistica. Dopo la firma, foto di rito con il presidente Salvo Montagno e primo allenamento con i nuovi compagni. Vita facile invece per il Real Siracusa che ospiterà allo stadio De Simone il fanalino di Codacci Catena che ha già incassato tre reti dal Siracusa Calcio nel recupero di campionato. La gara sarà diretta da Salvatore Montevergine della sezione AIA di Ragusa. La società Biancorossa rende noto di essersi assicurata intanto a titolo temporaneo dal Siracusa Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rosario Fiorentino. Il giovane attaccante classe 2003 ritorna a vestire la maglia del Real dopo l'esperienza avuta nella prima parte di stagione con la maglia azzura del Siracusa. Per quanto riguarda le altre formazioni siracusane, la Leonzio ha un turno impegnativo in casa del Milazzo mentre il palazzolo riceve il commiso allo stadio Scrofenis a Lustro. La capolista solitaria nuova Egea Virtus giocherà in trasferta contro la Nebrus. Ricordiamo che tra poco in acqua andrà l'Ortigia per il turno di campionato ma come sapete a causa dell'indisponibilità della piscina caldarella l'acqua continua a rimanere fredda. La partita contro il Ragnantes Salerno si gioca a Nesimo nel Catanese con la piscina coperta. Andiamo adesso a vedere le previsioni meteo. Vi trovate un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica quando sull'Italia ancora una zona di bassa pressione in quota recherà condizioni di instabilità. Il tutto è dovuto alla porta atlantica aperta proprio ad ovest con questa ampia giosta depressionaria varie zone di bassa pressione si trovano proprio a largo della Francia, della Spagna e del Portogallo con afflusso di correnti umide quindi anche sull'Italia. Giornata di gran variabilità più schiarita in alcune zone del centro-sud specie dal pomeriggio, nubi invece più compatte al nord e clima fosco e uggioso. In sintesi la mappa dell'Italia ci conferma una giornata brutta al nord con tanta nuvolosità e ancora delle precipitazioni nevicate sulle Alpi. Per quanto riguarda il centro-sud gran variabilità tra momenti soleggiati ma ancora la possibilità di qualche locale piovasco. Freddo, umido al nord, al sud invece in alcune zone toccheremo i 20 gradi per i venti di Libeccio. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travi Meteo. Queste erano le previsioni meteo. Intanto ricordiamo che la nostra emittente seguirà in diretta come sempre Santa Lucia il 13 dicembre a partire dalle 15 insomma quando uscirà il simulacro per poi arrivare alla chiesa basilica del sepolcro in Borgata. Una edizione come ricordiamo che sarà assolutamente di ritorno rispetto al passato, alla tradizione con la processione che tornerà ad essere viva e partecipata dai fedeli perché dopo due anni di stop a causa del covid si ritorna in strada, si ritorna ad abbracciare il simulacro della patrona di Siracusa. Sfumiamo con le immagini e chiudiamo questa edizione del telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito fin qui. Appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Sfumiamo con le immagini e chiudiamo con le immagini.